Un festival che guarda l'attualità e che riesce a cogliere il senso del contemporaneo attraverso una serie di mostre e progetti in dialogo con la nostra società. A Reggio Emilia si inaugura l'edizione 2023 di Fotografia Europea, evento promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani con il Comune di Oreggio e il sostegno della Regione Emilia Romagna. Il titolo per quest'anno è Europe Matters, visione di un'identità inquieta e la direzione artistica affidata a Tim Clark, Luce Lebar e Walter Guadagnini. La fotografia europea quest'anno si occupa dell'Europa, che vuol dire occuparsi di tantissime cose. Infatti sono davvero tante le possibilità di lettura di quello che sta accadendo in questo continente e per cui c'è l'Europa della Brexit, c'è l'Europa delle proteste in Polonia, c'è l'Europa naturalmente delle migrazioni e c'è l'Europa che si deve confrontare con la presenza dell'altro. Tutto questo attraverso i linguaggi di fotografi contemporanei, molto spesso molto giovani, che per l'appunto hanno questa straordinaria capacità di cogliere al volo quelli che sono i movimenti sociali che accadono. Quindi è una fotografia documentaria ma che sa anche essere una fotografia di ricerca. E a colpire, tanto nei chiostri di San Pietro quanto nelle altre location del festival, è la varietà di panorami fotografici che si possono incontrare, la natura molteplice del medium che fotografia europea esplora da molti punti di vista e senza pregiudiziali, aprendo al visitatore un'esperienza che per molti versi confina con quella dell'arte contemporanea. Da questo punto di vista è una mostra molto contemporanea, molto contemporanea non solo quindi nei soggetti ma anche nei linguaggi. Che sono quello, classico storicizzato, di Sabine Weiss, fotografa umanista francese che ha attraversato il Novecento, ma anche quello di ricerca sociopolitica sulla Turchia portato avanti da Jean-Marc Aimi e Valentina Piccinini, oppure l'ode visiva di Jelena Yemchuk per Odessa e l'Ucraina, o ancora le ricerche di Miriam Meloni sul mito di Europa e lo sguardo da Tangeri, così come quelle di Alessia Rollo sulla lettura magica e antropologica del Sud Italia. Solo per citarne alcuni. Ma contare a rappresentare il matters del titolo è soprattutto l'insieme, il coro di voci diverse che fanno il festival e che ci restituiscono una sensazione di vitalità della fotografia e di pertinenza con le indagini sul presente che la cultura porta avanti. A Palazzo dei Musei poi torna Luigi Ghiori con altri fotografi importanti che hanno raccontato i giardini in Europa e l'architettura degli alberi, un modo per ricordare l'ecologia dello sguardo del grande artista Emiliano, che diventa oggi anche uno sguardo ecologico.